Bagnoli, ma noi Bagnoli continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Io sono assolutamente fiducioso e ottimista che dal 20 giugno si sblocca tutto. E anche quello che è un po' irrigidito in questo momento, un po' bloccato, come se ci fosse uno stiramento, una contrattura istituzionale, dal 20 giugno si rilassa tutto. Perché è talmente forte la città di Napoli, sarà talmente forte il messaggio che mette in campo la città e sarà talmente forte la voglia da parte nostra di collaborare con tutte le istituzioni che noi siamo assolutamente convinti che anche su Bagnoli abbiamo già sbloccato. Abbiamo la municipalità, abbiamo il comune, abbiamo il piano, abbiamo costretto giuridicamente il governo finalmente a cominciare la bonifica grazie all'ordinanza che inquina paga. Io penso che chiaramente non mi avventuro nel dire che andiamo a fare il bagno col costumino, perché quello l'ha detto il Presidente del Consiglio, io il costumino ce l'ho ma so che lo devo utilizzare, forse se riesco a fare un giorno di vacanza o un'altra parte. Però siamo pronti, come lui comincia effettivamente a fare la bonifica grazie a noi, che anche su quello si va avanti insieme, non c'è dubbio.